Abbiamo l'Ista Cipriani e poi abbiamo anche il boss del Mipaf. Non esagerare per Camilla, non sono il boss, sono un semplice funzionario del ministero che si occupa di IPA da sempre, vengo dal Joy Club, poi Unire e poi dal 2013 Ministero delle Politiche Agricole. Settore IPA naturalmente. Prima Unire, che ne pensi di questo progetto? Ma è un progetto bellissimo, fra l'altro è un progetto che io mi si è in contatto, anzi Giuseppe è giusto dire, si mi si è in contatto con me più di due anni fa, io buttai giù un progettino di fattibilità per questo progettino qui e poi nasce la mia conoscenza col presidente di Final Farlo, Maurizio Rosellini, da una telefonata che mi si è in contatto Giuseppe una volta che io ero nella sua scuderia in Francia e al telefono parlavo con Maurizio Rosellini, da lì è partita questa conoscenza e ho cercato di dare un supporto a questa organizzazione che è veramente gestita bene e stiamo cercando di portare un pochino in alto il mondo del cavallo che è stato un pochino depauperato anche da un'incompetenza un po' nella gestione, mi duele dirlo ma è così, tanti anni fa, lo dicevo a Melissa prima, i dipendenti erano competenti e venivano tutti da quel mondo, oggi purtroppo essendo stato ci capita, io forse sono l'ultimo che vengo da quel mondo avendo avuto un nonno fantino, avendo avuto un babbo che ci ha lavorato 40 anni, io sono un allevatore, purtroppo non più italiano, sono un allevatore irlandese ormai perché ho dovuto trasferire il tutto, qui non c'è più mercato, però purtroppo è questo, però insomma si cerca di dare una mano e si cerca di ritirare su questo mondo, a me tanto caro, dove voglio, dove il futuro credo che sia, con questa iniziativa ho avuto Massimiliano, che poi ho avuto il piacere di mettere in contatto con l'organizzazione Final Farlong, tutto nasce quest'estate, da una telefonata fatta a un corso di città, con Massimiliano ho messo in contatto prima con Giuseppe Volti e poi con Maurizio, Rosellini, il presidente, è nata questa bellissima collaborazione in pochissimo tempo, quindi quando ci sono persone di buona volontà le cose si fanno, e questi oggi si stanno vedendo i primi fatti e io sono felicissimo perché questo è il nostro mondo e lo dobbiamo tenere vivo, anche in Italia. Cioè proprio l'Ippica ne ha bisogno come il pane di queste cose qui? L'Ippica ne ha bisogno come il pane, l'Ippica delle corse, ma ne ha bisogno come il pane anche il mondo del cavallo in toto, l'Ippica più di tutti, perché in questo momento c'è una crisi pazzesca, io posso dare dei dati, noi purtroppo alleviamo 450 cavalli puro sangue l'anno, dove in altri posti del mondo, dove io parlo di, dove l'Ippica è paesippiamente civile, io dico sempre questo, che sono l'Irlanda, l'Inghettella, la Francia, dove si allevano migliaia di cavalli puro sangue, dove c'è un mercato enorme, dove è un'economia, dove si danno posti di lavoro, dove la maggior parte della gente lavora in questo mondo, in maniera professionale e di altissimo spessore, non vedo perché un'Italia che ha avuto una storia enorme da questo punto di vista, dove ha allevato i cavalli più importanti, dove quando si nomina Federico Tesi o in tutti i paesi del mondo fanno chapeau, e noi ci siamo ridotti così, questo mi dà annoia. La Francia era anni lucidi tra noi. Esatto, e la Francia 30 anni, 25 anni fa, io mi ricordo, era veramente sotto a noi, però ha fatto un percorso che è lo stesso percorso che stiamo cercando di fare noi. Stiamo ripartendo dalla base del cavallo, per poi, ognuno poi si sceglierà le proprie passioni, il cavallo da concorso, il cavallo da passeggiata, il cavallo da corsa. Però l'importante è ritirare sul mondo del cavallo, ricreare professionalità e passione, che noi abbiamo perso un po' la cultura, bisogna ritrovare quella cultura che noi avevamo e che ci ha portato a altissimi livelli. E questo è quello che... questo progetto hai il mente di fare, in qualche maniera, no? Questo è il progetto che... mi sembra che questa volta ci sia... anzi, sono certo che questa volta ci sia un'unità di intenti enorme e che quindi se si rima tutti dalla stessa parte ce la facciamo. Non siamo più stupidi di tutti nel mondo dei cavalli, anzi, se ritiriamo fuori quello che avevamo dentro, quel fuoco, no? Quella passione che c'è qui a Siena, soprattutto, no? O nella Toscana, o come in Sardegna, per esempio, no? Ritiriamoli fuori lì. Se si riuscisse a fare una scuola di questo genere, in ogni istituto agrario, almeno uno per ogni regione, sarebbe un successo enorme. Siamo d'accordo, in Sardegna stanno provando a fare... a rifare la scuola degli avifantini. Inizio, chiude proprio il 30, quindi chi è intenzionato, chiamici, un brutto, ci sono tutti i numeri di chi chiamare per iscriversi a questo corso degli avifantini, anche ragazzini, anche per i poni, tra l'altro. E allora, ti ringrazio, e ora, questa bella ragazza qui, che c'è il suo nome, ecco, c'è il suo nome, non vedo nulla, eccola, vieni più qua, che se no vieni a quest'altra parte, perché Elisa ci piangi. Melissa, ha scritto, scusa, ti metto di basso e non il sole, non mi faceva vedere. Allora, tu hai preso l'eredità di papà. Io mi presento, sono Melissa Cipriani, erede della scuderia Handicap, con Loris Cipriani, mio padre. Ho preso l'eredità dell'azienda da un anno, essendo cresciuta in allevamento, proseguo. Io penso che, insomma, chi mi ha preceduto ha detto praticamente tutto. Posso soltanto dire che, essendo giovane e speranzosa nel futuro, credo molto in questo progetto e sono sicura che porterà qualcosa di grande. Spero che sia un seme per far fiorire questa foresta di, magari, non lo so, tutti gli istituti agrari che faranno un corso per diventare artieri. L'artiere è la persona che sta più vicino al cavallo, la persona più importante, secondo me, che, diciamo, trasmette il proprio amore e le proprie competenze. Se le persone che di sono a fianco non sanno dove mettere le mani, il gioco è finito. Quindi, secondo me, questo progetto, ringrazio ancora Massimiliano, l'ideatore del progetto, che mi ha coinvolto. Noi saremo la struttura di riferimento e speriamo che porti a grandi, belle cose. Grande passione, eh? Papà e zio ti hanno trasmesso proprio il tarlo della passione. Noi, sì, da quest'anno, ovviamente, a parte il turismo equestre, abbiamo, come sempre, la stagione di Monta, dove avremo sicuramente il ruler of the world, che è figlio di Galileo, vincitore dell'arby di Epson, e posso anche annunciare Oli Ballet per la prossima stagione. Quindi, e ci saranno nuove novità che sapremo a breve e speriamo in una buona stagione di Monta, speriamo di poter trasmettere anche la mia passione ai ragazzi e che questa, e che lì Picca torni di nuovo grande, come era con mio zio e mio padre. Io, fra l'altro, sono stato lì a Dovapoliri. Ecco, perfetto. Sapevi? Siamo in due. Non lo sapevi, eh? Non lo sapevo, eh. Hai visto? È un'altra, però grande. Perfetto. Bene. Grazie. Grazie a te e in bocca al lupo per tutto. Grazie.